La Videocon ha un nuovo proprietario, o meglio, un nuovo assegnatario, diventerà proprietario una volta che il CDA del Consorzio Industriale avrà ultimato l'ITER. Che cosa significa per il territorio, cosa significa per il rilancio industriale del nord della Ciociaria? E significa qualcosa in più il fatto che nelle ore scorse sia stato firmato l'accordo di programma con il Ministero. ILVA non è stata acquisita dagli indiani di ArcelorMittal, almeno lo stabilimento di Patrica. Non era fondato l'annuncio che era stato fatto dal Movimento 5 Stelle due settimane fa. E c'è però tutta una storia particolarmente lunga. Dove stiamo andando? Dove ci sta portando questo governo? Ne parliamo nel numero 323, anno nono di Apporte Aperte. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti. ha condotto in porto la vendita dello stabilimento Ex Videocon di Anagni, che da oggi è assegnato al gruppo cardinale tra i leader nella termoidraulica continentale. Lo ha fatto da Presidente del Consorzio di Sviluppo Industriale di Frosinone, Commissario Inpectore per l'unificazione dei Consorzi Industriali del Lazio. Benvenuto al Presidente Francesco De Angelis. Buonasera. Nel 2017 è stato ricevuto al Ministero, dove ha formalizzato il suo interesse per l'acquisto eventuale dell'Ilva di Patrica. Lo stabilimento, abbiamo preso ieri, non fa parte dei lotti che verranno acquistati dagli indiani di ArcelorMittal. Ci faremo raccontare tutta la storia e soprattutto se è ancora interessato a investire in Italia. Benvenuto al Dottor Giulio Capobianco. Buonasera. Buonasera. È senatore della Repubblica, eletto nella coalizione di centrodestra, non è tra quelli che al momento sostengono il governo. Al momento. Il suo partito, Fratelli d'Italia, è su posizioni sovraniste e nazionaliste. Benvenuto al senatore Massimo Luspandini. Buonasera. Anche a questo numero di apporte aperte potete dire la vostra con un messaggio inviato via WhatsApp al numero che vedete in sovrintensione 334 39 444 00. Ripeto, 334 39 444 00 per commentare, proporre argomenti e fare quesiti, proporre quesiti ai nostri ospiti. De Angelis, alla fine è riuscito a vendere il ghiaccio agli eschimesi. Sembrava una cosa impossibile. Gliene do atto l'espressione De Angelis e cerca di vendere il ghiaccio agli eschimesi. Era la mia perché vendere videocon, così come era concepito il primo bando, era assolutamente impossibile. Un'area troppo grande. Il prezzo che comunque non era un problema di denaro. Chi va a comprare un'area del genere non si fa un problema di un milione di euro in più o in meno. Ma è la seconda area industriale del Lazio tolta Fiat Chrysler. Non c'è bisogno di spazi. Gli spazi sono l'unica cosa che si trova a buon mercato in questo momento in Italia. Per questo, avevamo detto, sta cercando di vendere il ghiaccio agli eschimesi. E alla fine gliel'ha venduto. Come ha fatto? Dove li ha trovati questi eschimesi? Beh sì, alla fine il ghiaccio l'ho venduto. No, devo dire che sono soddisfatto. È una buona notizia, soprattutto per il territorio, per la provincia di Frosinone, per lo sviluppo, per la crescita e direi soprattutto per il lavoro. Ce l'abbiamo fatta perché siamo stati restardi. Non abbiamo mollato la presa perché questo è il quarto bando e alla fine abbiamo fatto centro. Chi ha comprato? Un imprenditore, un imprenditore che non è ciociaro, che però ha un'attività importante, significativa in ciociaria, precisamente a Patrica, nel settore della termoidraulica. C'è un vincolo su quell'area, cioè se uno vuole usarla per discarica di rifiuti non si può fare, c'è un vincolo. Cosa si può fare lì? Il sito deve essere produttivo e quindi la destinazione è urbanistica, non è previsto nessun cambio di destinazione d'uso. Quindi lì ci si può solo produrre? Produrre attività che possono stare nelle aree industriali, ci può stare la produzione, ci può stare la logistica, ci possono stare diverse cose. Cerchiamo di capirci, De Angelis. Allora, una volta quello stabilimento aveva circa 1200-1400 dipendenti, ma era il periodo in cui a Cassino la Fiat ne aveva 12.000. Oggi a Cassino abbiamo sì e no 6.000-7.000 dipendenti e poi c'è l'indotto. Lì, realisticamente, quei volumi ce li dobbiamo soltanto sognare realisticamente. Ma sì, noi non dobbiamo vendere sogni. Erano altri tempi. Io ricordo i tempi d'oro della Fiat, dello sviluppo industriale in provincia di Frosinone. Oggi viviamo una fase diversa. È un momento di difficoltà, di crisi che colpisce le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese. Anche se ci sono segnali di ripresa molto importanti, io li vedo anche dalla mia posizione, dal consorzio industriale. Però se qualcuno pensa che lì, se penso alla Videocon dei tempi d'oro, ai 1000-1500 lavoratori occupati, non sono questi i tempi. È già tanto e questo è un risultato per me significativo, che non ci sarà più la cattedrale nel deserto. Cioè non ci sarà più quel sito abbandonato, dismesso. Sarà un sito che tornerà in produzione. Ci sarà una produzione, un'attività produttiva e ci sarà lavoro ed occupazione anche per i giovani. Questo è già importante. Poi sui numeri bisogna capire l'attività, bisogna capire il mercato e bisogna capire tante cose. C'è un piano industriale, Presidente? No, adesso non siamo ancora al piano industriale, perché non è questa la fase del piano industriale. Non sono neanche tenuti a presentarlo. No, non sono neanche tenuti a presentarlo. Hanno acquisito, diciamo, acquistato con un'offerta di un milione e mezzo, più i oneri previsti per legge. Quindi adesso viene venduto, poi presenteranno il progetto, il piano industriale, per capire il tipo di attività. Quindi al momento se uno volesse dire lì che cosa faranno, l'unica risposta che lei può darci è, possono fare quello che è previsto dal piano regolatore. Dal piano regolatore, quindi attività previste in un'area industriale. Questo posso dire, non posso dire di più. La scelta poi è dell'imprenditore, perché è il mercato che decide, è l'imprenditore che deve decidere il suo piano industriale, deve essere un piano che consente all'impresa di stare sul mercato. Quello che possiamo sapere al momento è il tipo di attività dell'imprenditore, perché c'è già un'attività in provincia di Frosinone, a Patrica, sappiamo qual è il settore. Ma una telefonatina gliel'ha fatta per dirgli che cosa ci vuoi fare? Ma io devo dire che nessuna telefonata. Io ho parlato con lui questa mattina, perché è venuto questa mattina al consorzio, quindi l'ho conosciuto questa mattina, si è presentato, un'idea c'è, un progetto c'è. Io non escludo nemmeno l'ipotesi, perché a questa ipotesi avevo pensato anche io, però non può farlo il consorzio, perché ognuno deve fare il suo mestiere, noi non siamo degli imprenditori. Però l'idea del condominio, di spacchettare, perché quella è un'area molto grande, e di sviluppare diverse attività, questa può essere un'ipotesi, così come ci può stare anche l'ipotesi della logistica. Ma io ripeto, ben venga la produzione, ben venga l'attività produttiva e ben venga il lavoro, poi è giusto che sia l'imprenditore a decidere e spero che il mercato gli dia ragione. Insomma, noi per quanto ci riguarda quello che noi faremo, io l'ho già detto questa mattina, noi abbiamo firmato e sottoscritto un protocollo di intesa con la Regione Lazio e con il Presidente Zingaretti. Anzi, io approfitto, voglio ringraziare Nicola Zingaretti, il Presidente della Regione, la Regione che ci ha sostenuto e ci ha accompagnato in questi anni, perché non è stata un'operazione facile, un'operazione molto complessa, molto difficile. Però in quel protocollo è prevista la conferenza dei servizi, è previsto il tavolo di concertazione. Per fare che cosa? Soprattutto il tema, di questo ho parlato questa mattina anche con l'imprenditore, perché qual è la preoccupazione degli imprenditori? Gli imprenditori non cercano i finanziamenti. La prima domanda, ma i tempi? Cercano le autorizzazioni. Ecco, bravissimo, ci siamo. Il problema sono le autorizzazioni. Ci siamo, bravissimo. Io compro l'aria, ho i soldi, sono pronto a produrre, però non posso muovere un mattone perché prima deve avere milioni e milioni di autorizzazioni. La prima domanda che mi ha fatto è questa, soprattutto ai tempi, perché se io ho un progetto, quel progetto si è realizzato in 5-6 mesi, un anno è un progetto valido, forte, che sta sul mercato, se viene realizzato dopo 3-4 anni, 5 anni, quell'idea è già fuori dal mercato. Ecco, io devo dire che quel protocollo d'intesa consente di attivare questo tavolo di concertazione. In quel tavolo ci sarà il consorzio, ci sarà la regione, ci sarà la provincia, e ci sarà il comune di Anagni. E in quel tavolo di concertazione, questo è scritto nel protocollo d'intesa che io ho firmato con il Presidente della Regione, faremo di tutto per snellire e velocizzare, soprattutto le procedure. Momento soltanto. E quindi le pratiche di autorizzazione. Capobianco ha fondato la Dem Engineering, società che si occupa di progettazione e realizzazione di macchinari, ed è solo un ramo d'azienda. A Roma ha questo settore, mi corregga se sbaglio, che è specializzato nella progettazione e realizzazione di macchinari per la lavorazione della carta, ma avete tutta una serie di progettazioni di macchinari e anche di allestimento di macchinari di primo ordine. Vi occupate anche del settore petrolifero, vi occupate anche della preparazione dei siti dove poi realizzare le imprese. Mi corregga se ricostruisco male. 2017 a un certo punto lei si presenta al Ministero dello Sviluppo Economico e manifesta la sua disponibilità, il suo interesse a rilevare la ILVA di Patrica. No, allora dobbiamo tornare un pochettino indietro. Diciamo che il discorso dell'ILVA è nato inizialmente, io a livello un po' manageriale, abbiamo fatto delle riunioni interne con delle società finanziarie e dalla prima fase, prima che parlo del 2016, no? Il 2017, insomma avevamo fatto gli accordi all'epoca, diciamo alla proprietà ILVA, dell'acquisizione dello stabilimento. siamo andati a fare le varie riunioni, siamo andati addirittura con gli assegni circolari, quindi tutto era stato programmato per l'acquisto. Poi è successo... Con ILVA, parla direttamente con ILVA. Prima che venga commissariata. Con il vecchio commissario Bondi, se dimenticare. C'era un nudi? No. Prima c'era Bondi? No, credo Bondi. Bondi, 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 Bondi. Credo Bondi. Cioè, persona che devo dire la verità, è stato molto veloce, avevamo giusto tutti gli accordi in poche parole. Dovamo prendere questo stabilimento. Poi c'è stato un susseguirsi di loro cambiamenti, addirittura altri accordi fatti. Poi siamo riusciti a prendere anche una società inglese, la Compedium, che facemmo le varie riunioni sia al Ministero sia a ILVA a Roma. Chi era? Compedium? Cosa c'entra? Compedium? C'entra perché era la parte garante finanziaria. Quindi, come stavamo parlando di un stabilimento importante, dovevamo dimostrare e garantire gli aspetti finanziari. E quindi c'era una società inglese che era lì a garantire gli aspetti finanziari. Più o meno, mi corregga se sbaglio, la stessa operazione che è stata fatta ad Anagni nell'acquisizione della ex Marazzi. Francesco Borgomeo, imprenditore, nel momento in cui deve fare l'operazione, ha alle spalle dei soci finanziari che con i loro capitali garantiscono l'operazione. Quindi c'è la managerialità di Capobianco, l'idea progettuale di Capobianco, i soci finanziari che dicono ok, noi investiamo in questa operazione. Un concetto, che la Demi Ingegne, che è nata, però fa parte di un gruppo di aziende. Esiste la Demi Plants, che sta a Verbagna, con sede a Milano. C'è una società in Russia, sempre del gruppo della Demi. E attualmente esiste anche, visto la perdita che abbiamo avuto, nel perdita del tempo, quello che diceva dubbiamente prima il senatore, quindi abbiamo perso del tempo. e attualmente siamo stati un po' costretti ad acquistare uno stabilimento in Romania, in Oradea. Un momento soltanto. Allora, lei quando nel 2016 dice io sarei interessato ad acquisire la Ilva di Patrica? Già l'assegno in mano. Quando al Ministero le chiedono, scusi Capobianco, non per farle conti in tasca, ma l'argento e chi ce lo mette, lei dice guarda io ho questi soci, ho la finanziaria. No, no, i soci erano presenti. Noi eravamo una società ben organizzata che si presentava nel gruppo. Quindi i soldi ci sono. Cosa ci voleva fare a Patrica? Ma inizialmente avevamo tutto un accordo con delle società pure russe. Effettivamente potevamo, stavamo pensando, proprio con degli accordi precisi, di rimettere proprio la produzione. La lavorazione di alluminio. Dopodiché avevamo pure dei piani B, diciamo, piano A per la riproduzione, perché avevamo contestualmente fatto un progetto di innovazione. Perché quel tipo di impianto produce circa 150.000 tonnellate anno di prodotto di lavorazione. Il nostro progetto prevedeva di portare lo stabilimento a 300.000 tonnellate di produzione. E quindi noi era il garante per la progettazione. Questa società collegata sia in Inghilterra sia in Russia era quella che poi garantiva la materia prima, perché lì il problema è la materia prima, e riassorbeva la produzione. Perfetto. E questo era il piano A. Poi c'era un piano B. Il piano B era un discorso che è quello noi come società che operiamo e viviamo di questo. Noi che facciamo alla fine? Progettiamo. Noi facciamo dai parcheggi automatizzati per auto alle lavorazioni dei sistemi di automazione e movimentazione industriale. Più abbiamo un servizio con demi-planz di circa 120 dipendenti che viaggiano un po' tutto il mondo che sono due operai altamente specializzati che garantiscono determinati tipi di interventi di montaggi particolari. Capisco bene. Lei a un certo punto a furia di aspettare ha detto sai che c'è di nuovo qui? Nessuno mi fa sapere niente lo stabilimento ma lo compro in Romania? C'è stato offerto francamente mi trovavo a Torino per dire il vero stavo vedendo che lo stabilimento della Comao si era spostato in Oradea poi dopo una settimana mi hanno offerto l'acquisto di questo stabilimento e noi non avevamo qui in Ciociaria visto un'entità produttiva lì era pronta e l'abbiamo presa insomma ecco tutto qui Senatore Rusbandini qui adesso entra in scena la parte politica e serve il commento politico perché noi abbiamo un relitto industriale che comunque non tornerà a occupare 1200 persone perché oramai le produzioni si fanno in modo diverso ma abbiamo anche chi aveva la volontà di prendere un sito e recuperare gli erano un'ottantina di dipendenti se non sbaglio Capobianco quelli di Patrica che erano un'ottantina ultimamente erano scese arrivando attorno sui 53-54 53-54 dipendenti e poi alla fine che era previsto un progetto di riqualificazione pure del personale benissimo c'era quindi questa possibilità di fatto noi ci troviamo che questo imprenditore nessuno gli ha fatto sapere niente e ha investito da un'altra parte ha trovato l'occasione da un'altra parte e giustamente i suoi capitali li ha portati da un'altra parte adesso rispetto a quell'epoca abbiamo un quadro politico che è diverso come la giudica il senatore della Repubblica questa situazione? Innanzitutto complimenti per questa ricostruzione per aver confezionato uno spaccato incredibile attualissimo è anche inquietante della situazione che inevitabilmente va diciamo così inquadrato nella in una chiave mondiale il problema del costo del lavoro della nostra Europa un'Europa a due velocità nazioni che fanno parte dell'Unione Europea che si possono permettere tassi di interesse e anche un costo del lavoro irrisorio rispetto all'Italia l'imprenditore che dovrebbe in generale io sto dicendo a parte il costo suo comunque conviene più investire in Albania in Romania in Bulgaria che in Italia per una serie di cose insomma non ultimi cavilli burocratici il fatto che la legge italiana impone giustamente anche il rispetto di alcune norme per esempio riguardanti l'ambiente e nella vicina Slovenia nell'est europeo queste norme vengono ma anche anche nei paesi sviluppati penso anche alla Francia per esempio c'è la possibilità di produrre con una tra virgolette serenità diversa tutto questo complesso di norme e di diciamo così di squilibri porta alla situazione di stasi è uno degli elementi che porta alla situazione che stiamo vivendo mettiamoci anche che abbiamo sicuramente un costo del lavoro e anche degli investimenti che secondo me non sono adeguati e non vanno nella direzione dello sviluppo noi ecco dipingiamo quello che il direttore questa sera ha voluto riproporre al pubblico senatore metto il dito nella piaga l'altro giorno Giorgio Meloni ha avanzato alcune perplessità e ha detto io ho dato un'occhiata a questo documento di economia e finanza che è in pratica il documento in base al quale il paese l'Italia si muoverà l'anno prossimo lì c'è scritto come vogliamo spendere i soldi su che cosa vogliamo puntare Giorgio Meloni dice io sono perplessa di fronte al reddito di cittadinanza perché mi domando non è che fa le barricate però il problema lo pone mi domando ma se questi soldi li avessimo dati ad esempio a Capobianco dicendo ma invece di pagare tot ogni lavoratore perché ogni mille euro che gli mette di stipendio in busta ce ne sono più o meno mille tra tasse oneri e contributi questi soldi io li metto su ogni lavoratore che lui assume e faccio in modo che quel lavoratore gli costi di meno io in questo modo ho economia che si produce ho soldi che circolano ho gente che ha uno stipendio e quindi spende se spende si comprano le cose quindi è IVA che circola diceva Giorgia Meloni io mi pongo questo dubbio il dibattito interno al vostro gruppo fratelli d'Italia com'è proseguito? noi sicuramente siamo per esempio lo dice anche Giorgia favorevoli al cosiddetto sforamento di questo rapporto deficit pill il problema è che quindi siamo onestamente pronti a sfidare l'Europa su questo ragionamento e cioè sulla possibilità di investire in Italia di avere la capacità e la libertà di fare debito il problema è che abbiamo una visione diversa rispetto all'attuale governo su dove investire questi soldi che diciamo così ci facciamo prestare dalle nostre banche e qui c'è la differenza sostanziale con la Lega e il 5 Stelle noi siamo appunto per incentivare la produzione di posti di lavoro incentivare lo sviluppo abbassare radicalmente il costo degli operai il costo del lavoro in Italia una maestranza di 1400 euro costa all'imprenditore quasi il doppio o spesso più del doppio e questo credo che non vada nella direzione della creazione di posti di lavoro detto questo però siamo altrettanto consapevoli che continuare con le teorie neoliberiste appoggiate in Italia insomma largamente dal PD ma anche da settori di Forza Italia diciamo seguire le direttive che ci vengono date da Juncker dall'Europa non porti o meglio non abbia portato soluzioni né per quanto riguarda la riduzione del debito pubblico che è un mostro che è aumentato con i governi Letta con i governi Renzi con i governi Monti paradossalmente e non vanno nella direzione invece della creazione e della ridistribuzione della ricchezza per cui per diciamo così semplificare siamo a favore della creazione di debito in questo frangente ma vorremmo che invece del reddito di cittadinanza del quale non sappiamo bene le rigadute sul territorio nella complessità di uno Stato che ha sacche nel meridione di assistenzialismo storico non siamo in grado oggi di verificare la rigaduta sociale ed economica vera non siamo convinti che possa riattivare un meccanismo di domanda interna di consumi per cui avremmo preferito quello che lei ha detto un investimento maggiore sul taglio del costo del lavoro per gli imprenditori sempre a favore degli operai chiaramente a favore della costruzione dei vostri lavori ma andando a tagliare lì quindi per riassumere mi corregga se sbaglio ci ricorda il senatore Ruspandini l'Italia è legata da dei vincoli europei nelle sue spese perché può spendere può indebitarsi all'interno di un rapporto ben preciso il famoso rapporto deficit pille cioè quanta ricchezza produci in base alla ricchezza che produci tu puoi indebitarti di tot perché altrimenti non ce la fai poi a ripagare il debito chi è che ci mette la differenza l'abbiamo spiegato la volta scorsa un cittadino va in banca e chiede i soldi l'Italia non va in banca e chiede i soldi prende il suo debito e lo colloca cioè dice ai rispermiatori del mondo chi si compra il mio debito io tra tot anni vi ridò i soldi che mi avete anticipato e vi do anche gli interessi ecco perché è importante la crescita del paese se cresce la nostra economia siamo in grado di restituire quei soldi pagare quell'interesse e non avere quindi quel debito così grande di fatto chi è che colloca quel debito le banche ecco perché sembra che i soldi li diano le banche in realtà li mettiamo noi risparmiatori le banche comprano questi pacchetti di debito e poi noi risparmiatori comprando i botti i buoni del tesoro i certificati di deposito noi diamo i nostri soldi al debito italiano ci diceva Rospandini noi siamo a favore dell'aumento della soglia di indebitamento andare oltre quel rapporto deficit-pile ma siamo perplessi di fronte al progetto di destinare questo debito a pagare il reddito di cittadinanza perché siamo perplessi perché non abbiamo nessuna certezza della ricchezza che poi va a produrre nel paese pensiamo che potrebbe essere più utile investire i soldi nelle imprese dicendo purché tu assuma io ti aiuto a sostenere il peso del costo del lavoro detta la posizione di Fratelli d'Italia De Angelis qui a questo punto però dobbiamo far quadrare la situazione perché è vero che lei è il presidente dell'Asi ma è comunque il leader della componente maggioritaria del partito democratico in questo ragionamento ci dice Ruspandini lei è un liberista il suo partito è un partito liberista neoliberista per cui lei fa delle politiche che una volta si sarebbero dette di destra e di fatto a questo punto lo sviluppo del paese non è garantito diciamo lei non è diventato deputato per poco però di fatto le vostre politiche sono quelle che hanno portato il paese a questa situazione di stallo secondo una parte della ricostruzione di Ruspandini ha ragione Ruspandini avete sbagliato voi nelle vostre politiche o comunque il fatto che ci sono state assunzioni ci sono stati investimenti che Capobianco nel 2016 con i suoi abbia trovato dei soci finanziari che dicevano siamo disposti a mettere i denari in questa operazione era frutto dei governi di centrosinistra ma io penso adesso al di là delle battute questo è il teorema Ruspandini quindi che noi siamo un partito liberista che noi siamo non so che cosa noi siamo il partito democratico la nostra storia è una storia che si conosce anche perché veniamo da lontano noi quindi poi abbiamo governato il paese abbiamo anche commesso degli errori sugli errori dobbiamo riflettere dobbiamo ragionare non possiamo far finta di nulla io non sono il tipo che dice no abbiamo fatto tutto bene siccome abbiamo fatto tutto bene poi però siamo passati dal 40 al 18% con chi ce la prendiamo con gli italiani che hanno votato non hanno capito no non è così è solo un difetto di comunicazione no non è così dobbiamo un attimino ragionare discutere e correggere una linea politica rispetto a tutto questo ecco perché io penso lo dicevo anche ieri in questa riunione che c'è stata di pensare democratico di convocare al più presto il congresso del partito democratico noi abbiamo bisogno di un congresso serve un congresso perché dobbiamo ridefinire il profilo politico ideale culturale del partito democratico dobbiamo mettere in campo un nuovo progetto io trovo molto convincente la proposta di Zingaretti anche quella economica e qui vengo alla questione quella sull'economia giusta cioè cioè mi spiego non è vero che noi abbiamo sbagliato tutto anche perché i risultati ci dicono che durante il periodo del governo di centrosinistra segnali di ripresa ci sono stati anche anche a livello occupazionale non mi pare adesso che le cose diciamoci la verità per il momento è tutto scritto sulla carta penso al governo giallo verde il reggito perché domenica scorsa non all'iniziativa di Zingaretti che lei appoggia ma all'iniziativa di Matteo Renzi a Firenze alla Leopolda va un imprenditore di questo territorio Francesco Borgomeo che dice guardate che io ho fatto questo investimento grazie a Industria 4.0 io l'ho potuto fare attraverso una serie di provvedimenti messi a punto dai governi di centrosinistra cioè io ho comprato l'idea standard di Roccasecca ho comprato la ex Marazzi di Anagni perché ci sono stati come nel caso di Capobianco degli investitori stranieri che hanno detto ok io sostengo questa operazione ma lo hanno fatto dice Borgomeo perché c'erano comunque Industria 4.0 che è una serie di provvedimenti in materia di industria adottato dal governo dai governi di centrosinistra il Jobs Act per quanto criticato ha detto comunque per me è stata una cosa utile e c'è stata una serie di provvedimenti che hanno agevolato gli investimenti stranieri è questa la sintesi? Sì io penso di sì è questa la sintesi poi è chiaro che devi approfondire devi capire meglio ma questo è quello che è successo in questo paese noi abbiamo l'esempio proprio qui in provincia di Frosinone la vicenda Idal Standard la vicenda Saxagress dove c'è stato un investimento un investimento produttivo che sono investimenti su innovazione su ricerca sull'economia circolare finalizzati soprattutto alla ripresa dell'attività produttiva e soprattutto a garantire lavori d'occupazione questo è il punto perché anche sul reddito di cittadinanza io una cosa la voglio dire perché se noi diciamo reddito di cittadinanza no? chi è contrario? forse nessuno trovi qualcuno che dice no io io sono contrario io non li voglio cioè mille euro al mese io preferisco sempre il posto di lavoro perché è più dignitoso perché non è assistenzialismo e questo serve al nostro paese e serve all'Italia però lasciamo stare ma io mi chiedo chi è che paga? chi è che paga? cioè come risolvono questa questione? come risolvono questi problemi? è come un padre di famiglia a un certo punto il padre di famiglia a fine mese dice va bene ai figli 10.000 euro a testa benissimo ma dove li prendo? cioè io su questo vorrei ad esempio era la domanda che più o meno si poneva anche di Scandini cioè io non ho al di là di dove li prendo ma questi 10.000 euro chi li paga? fruttano poi 10.000 e 1 euro certo che mi vanno a coprire l'investimento? altra cosa invece è dire altra cosa invece è dire non la spesa corrente e quindi l'assistenzialismo ma l'investimento produttivo cioè in sostanza io faccio un investimento che è produttivo è finalizzato alla ripresa di un'attività produttiva e quindi al lavoro e all'occupazione vedi la vicenda dell'idea standard io penso che questo è quello che noi dobbiamo fare poi io una cosa la voglio dire io non ho problemi nel dire rispetto al reddito di cittadinanza io preferisco il reddito di inclusione è un'altra cosa qual è la differenza? la differenza è che il reddito di inclusione è finalizzato al lavoro allo sviluppo dell'attività produttiva il reddito di cittadinanza non è produttivo è assistenzialismo è spesa corrente è debito per il paese e non si riesce a capire chi è che lo paga questo debito così come anche sull'Europa adesso noi ci avviciniamo il prossimo anno io sono stato parlamentare europeo e io so bene che l'Europa così com'è bisogna cambiarla non va bene non l'Europa delle banche della finanza ma l'Europa dei popoli su questo anche noi dobbiamo recuperare lo spirito del manifesto di Ventotene Altiero Spinelli cioè dobbiamo metterci un po' più di sinistra per essere chiaro e semplifico questo riguarda noi e riguarda il Partito Democratico però noi dobbiamo cambiare l'Europa però io se rimprovero qualcosa al Partito Democratico sai cosa rimprovero? che non basta dire non dobbiamo uscire dall'Europa cioè noi dobbiamo far capire all'italiano che cosa succede domani se noi usciamo dall'Europa questo è il punto perché questa è una domanda che nessuno scusa adesso lo chiediamo a Rus Pandini scusa e ho finito allora cominciamo a dire che se domani usciamo dall'Europa che fine fanno i risparmi degli italiani e noi siamo un paese che sui risparmi che fine fa il mutuo cioè chi oggi con fatica diciamo ecco cioè se a tasso tutto a tasso non è così c'è il tasso fisso c'è il tasso variabile e non è così perché il paese diventa più povero e tu lo sai bene io penso vedi la vicenda della Grecia noi siamo un paese fondatore dell'Europa non è vero che se noi torniamo alla lira al sogno della lira noi diventiamo più forti noi diventiamo più non è così chi è che viene ad investire in Italia con un'economia debole diciamo da questo punto di vista quindi le questioni sono da questo però non significa che noi dobbiamo difendere l'Europa che c'è questo significa che le forze progressiste devono mettere in campo un progetto che deve servire a cambiare l'Europa pensare meno alla finanza meno alle banche e pensare un po' di più a chi produce e a chi lavora questo è il punto chiariamo una cosa e ripartiamo da Videocon ma telegraficamente l'imprenditore che ha comprato Videocon l'area Videocon di Anagni sta facendo questa operazione perché c'è l'Europa e perché è all'interno di un contesto europeo e se qui ci fosse stata l'Italia che doveva pagare i dazzi doganali per esportare la produzione che adesso si farà a Danagni avrebbe investito lo stesso? Io penso di no questa è la mia opinione io penso di no non avrebbe investito lo stesso Capobianco ma è chiaro che non investe perché investe perché vede un'opportunità un'occasione diciamo quindi da questo punto di vista io voglio faccio un esempio nonostante diciamo la Videocon è un'area molto grande molto vasta però nessuno ha mai detto in questi anni che la posizione della Videocon è una posizione strategica molto molto strategica cioè noi stiamo stiamo parlando dell'autostrada Roma-Napoli e noi stiamo lì diciamo all'uscita del casello autostradale c'è l'uscita del casello c'è lo scalo ferroviario interno c'è lo scalo c'è di tutto cominciamo a dire alcune cose se adesso noi e io e qui ho fatto due giorni fa l'anticipazione adesso con la legge 46 quella sull'indotto fermo perché se no mi anticipa tutti i temi della trasmissione vedi come poi le cose come dire si incrociano e tutto diventa più facile momento ci arriviamo tra poco prima devo sentire una cosa prima di far replicare poi anche Ruspandini su questa storia dell'Europa io vedevo prima Capobianco che era un po' perplesso quando parlava il senatore Ruspandini a proposito del fatto del perché investire da una parte e non dall'altra allora l'aspetto del costo del lavoro è fino ad un certo punto l'aspetto delle tasse del cuneo fiscale è fino a un certo punto è vero che l'imprenditore nel momento in cui sceglie un territorio lo sceglie anche per l'efficienza della risposta e cioè la prima domanda che quel poverino che si è comprato video con apposto al presidente dell'Asi è stata sì ma quanto tempo ci mettete a darmi i documenti che mi consentono di produrre e di fabbricare abbiamo fatto l'esempio la settimana scorsa qui c'è stata un'impresa che si trova su questo territorio che deve fare una parte della sua produzione all'estero in questo paese estero dove è andato in tre settimane tre funzionari del ministero gli hanno fatto trovare tutti i produttori di materia prima tutte quante le cooperative dei camionisti che dovranno fare quel trasporto tutta la materia prima che non riescono a produrre nel paese e gliela fanno arrivare Franco Dogana e quindi è come se fosse nazionale in tre settimane più le linee di credito con le banche in 24 ore più le autorizzazioni tutte pronte entro 30 giorni lei questo in Italia lo trova Capobianco? guardi la situazione dell'Italia a livello imprenditoriale oramai la conosciamo tutti quanti quindi però io rifaccio un collegamento ben preciso un imprenditore quando fa una scelta perché l'ha studiata non è che si alza la mattina e gli facciamo un investimento è frutto di uno studio di una riflessione di una verifica quindi credo che anche nella situazione noi dobbiamo tenere presente innanzitutto una cosa importante oltre alla politica che non si capisce più onestamente il cambiamento che sta subendo ma anche il mercato sta cambiando cioè io ho verificato per quello che posso capire io noi lavoriamo con una società comunque che fa tecnologie avanzate diciamo che alla fine la tecnologia io cerco di mantenerla qui tutta l'ingegneria cerco di averla qui noi abbiamo spostato semplicemente delle fasi operative di certe costruzioni quindi valutando avete fatto non perché vi andava di fare perché si risparmiava no? immagino o no o perché vi andava di farlo ma le dico francamente noi avremmo preferito di farlo dentro l'Irba e l'avremmo fatto dentro l'Irba se gli appuntamenti fossero coincisi la misura è giusta noi stavamo dentro l'Irba avremmo benissimo riqualificato perché l'idea ripeto ce l'avevamo molto chiare ma è quella anche di riqualificare il concetto del personale che è fondamentale perché io non capisco oggi perché l'azienda deve produrre per 100 anni 50 anni acciaio quell'azienda può essere benissimo riconvertita quindi riconvertire il personale non avrei comprato lo stabilimento in Roma se avessimo sicuramente chiuso anzi le dico di più noi avevamo chiesto pure l'affitto ma adesso mi sono ricordato di un fatto che noi come sono stato dentro lo stabilimento con un gruppo di ingegneri per circa un mese perché visto che ci hanno questi accorti un po' definiti si dice guarda non perdiamo tempo noi cominciamo a fare l'ingegneria cominciamo a studiarci tutti in impianto siamo stati dentro voglio dire abbiamo pure subito un costo ma tutto questo si è fermato posso dire una cosa chiedici come mai in Italia in Italia non ci stava un altro sito Massimo posso dire una cosa sulla mano d'opera una cosa la mano d'opera è vero che in Italia costa di più però se investi e pensi al futuro quindi innovazione ricerca la nostra mano d'opera è migliore in Europa nel mondo noi facciamo ricerca salta l'operazione Ilva di Patrica ma non c'era un altro sito in zona che potesse andare bene? respiro la domanda è a lui o a lei? a lei la curiosità allora le spiego per quale motivo frutto che un imprenditore studia l'argomento e va lì quel stabilimento ha delle problematiche tecniche veramente importanti cioè se noi pensiamo che lì dentro si producevano coils di lamiera un coil che pesa circa 25 tonnellate se non fate errato quindi c'è un sistema di sollevamento e un sistema di statica del pavimento importante se noi pensi che il magazzino aveva delle caratteristiche particolari c'ha dei carroponti che hanno una portata per esempio da 30 tonnellate cada uno noi avevamo progettato certi tipi di movimentazione pesante addirittura con Demi Nord stavamo pensando che il piano B era la possibilità di fare dei portelloni addirittura dei draghetti delle navi di fargli la denti perché? perché c'era quel tipo di sollevamento se lei deve costruire costruire oggi un capannone con certi requisiti è pazzesco pazzesco proprio pensare quindi Ilva Di Patrica come videocon di Anagni ha delle peculiarità delle caratteristiche particolari che la rendono appetibile mentre per noi si come quell'imprenditore l'ha visto se io adesso mentre l'ha fatto la vicinanza non salia a giocare con quello scalo ferroviario interno per la partenza e l'arrivo delle merce nel suo caso era Ilva Di Patrica aveva una caratteristica importantissima e cioè la possibilità di lavorare di fare le lavorazioni che sono quelle del suo settore perché siccome si tratta di oggetti molto pesanti 25-30 tonnellate occorre un pavimento fatto in un certo modo con una certa resistenza una certa altizza del capannone che è 15 metri di altezza e dei carri punte che sono in grado di sollevare e spostare questi materiali mi tolgo una curiosità ma noi abbiamo detto questo parte nel 2016 nel 2017 poi lei torna al ministero lei parla con il dottor Castano che è responsabile delle aree di crisi lei oltretutto presenta un progetto industriale dicendo io già ci sono stato lì dentro sono pronto a fare questo ci sono due lettere noi le abbiamo trovate abbiamo anche indicato le date in queste due lettere l'ultime di febbraio del 2018 viene sollecitato Castano viene sollecitato l'allora ministro Calende dicendo scusate ma almeno fateci sapere su quello che si vuole fare ma lei in qualche modo una risposta l'ha avuta da qualcuno allora il dottor Castano innanzitutto francamente io mi sono trovato molto bene perché ho trovato dall'altra parte una persona estremamente competente veramente una miniera di uomo insomma nelle riunioni sono terminati i sindacati c'era pure il senatore Scalia che devo dire nel progetto si è pure impegnato notevolmente per cercare però c'era quello che c'è stato poi l'assenza proprio diciamo di ilba che praticamente è come se non avesse ma probabilmente il potere decisionale di dire sì posso vendere o non posso vendere c'era qualche cosa che andava fuori che io non ho capito proprio i dettagli pure perché diciamo uno sforzo pure non puoi vendere dalla in affitto perché tutto questo è stato unicato o non potevano non si capisce questo non lo posso dire perché non è di mia competenza è mancata ilba quindi non è mancato ma io dico ilba io credo che è mancato un po' pure il concetto della politica totale dei sindacati io credo quando di fronte a una sconfitta non è mai colpa di uno in fin dei conti io credo che c'è stata un'associazione di non voler chiudere certi tipi di pubblicità poi approfondiamo ma telegraficamente ma eventualmente un pensierino a Patrica lei sarebbe disposto a farcelo io sono in contatto con il sindacato stavo in contatto pure con il senatore sono stato in contatto direttamente pure con i commissari noi abbiamo detto le situazioni sono cambiate non sono quelli di una volta ma noi siamo disponibili a rimetterci seduti ma con la sede cioè se ci mettiamo seduti questa volta dobbiamo arrivare a qualche conclusione un interlocutore ce l'ha in questo momento come? un interlocutore istituzionale no c'è? no no in questo momento questo è un messaggio importante senatore Rusbandini a questo punto a questo punto lei è incastrato davanti alle telecamere se lei non porta avanti questa questione è tra l'altro anche il suo collegio elettorale quindi ci ha appena detto Capobianco che non ha un interlocutore istituzionale lei è senatore della Repubblica tra una settimana nella prossima puntata io le chiederò conto di quello che ha fatto quantomeno per mettere in contatto Capobianco con l'interlocutore istituzionale che quantomeno ci dica sì siamo disposti a darla a queste condizioni o non condizioni pubblicità ci vediamo tra poco seconda parte di Apporte Aperte sempre in diretta su Teleuniverso stiamo parlando di Videocon stiamo parlando di Ilva stiamo parlando di rinascita industriale del territorio ci siamo lasciati prima della pubblicità con il dottor Capobianco che ha detto potremmo ancora essere interessati alla Ilva di Patrica certo le condizioni di mercato adesso sono diverse rispetto a due anni fa quando siamo stati lì dentro abbiamo cominciato a fare tutti i rilievi tutte le misurazioni non è che siamo entrati da abusivi avevamo una regolare autorizzazione quindi guardate quanto stavamo avanti nella vendita mancava solo il perfezionamento poi non si è fatto più nulla il senatore Ruspandini ha preso l'impegno che si farà carico di andare a verificare questa cosa già domani e cercherà di creare il contatto creerà sicuramente il contatto tra il Ministero del Lavoro e il gruppo che viene guidato da Giulio Capobianco vediamo di sms che nel frattempo ci avete mandato al numero di whatsapp che vi abbiamo indicato 334 39 444 00 ingegnere Capobianco noi ex lavoratori ILVA avremo proprio bisogno di qualche buona notizia contiamo su di lei una piccola impresa con 4 dipendenti arriva a pagare tra tasse cassa edile busta e paga anche 12.500 euro al mese il reddito di cittadinanza non serve a creare lavoro le perplessità del gruppo di Fratelli d'Italia sono più che giuste forza senatore Ruspandini De Angelis venga a respirare la puzza del suo depuratore a Ceccano il senatore Ruspandini ha ragione questa Europa è la rovina De Angelis bene l'acquisto dell'ex video con protocollo tempi autorizzazioni nuove prospettive occupazionali per i giovani dice il presidente De Angelis tutto bene fin qui ma le maestranze tutti gli ex ormai raggruppati nella vertenza Frusinate prevalentemente video con ma penso anche agli ex Marangoni Marazzi eccetera eccetera oggi anche Biomedica è prevista una clausola che possa tutelare soprattutto le famiglie degli ex videocon chi tutelerà questi lavoratori il PD ha distrutto la provincia di Frosinone la regione Lazio e l'Italia però quando mandate i messaggi mi ci mettete pure perché senatore Ruspandini i cavilli e il complesso limite imposto dalla perimetrazione sin quanto possono incidere sui tempi di ripresa va rivista evidentemente la mappatura della suddetta perimetrazione il Sinè l'area della Valle del Sacco che è inquinata riguarda Anagni manca un piano industriale vero per lo sviluppo del nostro territorio diamo incentivi alla piccola impresa e diamo sviluppo al commercio solo così ne usciamo i risultati occupazionali del governo di centro-sinistra di cui sta parlando fanno fede a contratti di un mese De Angelis ha avuto dei ruoli importanti che non ha più non essendo stato più votato se ne facesse una ragione non mi sembra che abbia detto il contrario anche la Lega una delusione non l'abbiamo votata per fare accordi con i 5 Stelle e per avere il reddito di cittadinanza ma il PD e PDL hanno rovinato l'Italia e soprattutto il mondo del lavoro e vengono a dire cosa devono fare le imprese e gli imprenditori beh intanto l'impresa De Angelis l'ha trovata voi mandate i messaggi a 8 anni dalla chiusura della miele LMT azienda con 100 operai sanno di cosa trattava la stessa o non si sono interessati allora De Angelis abbia pazienza ma io poi ci trovo gusto c'è una cosa Ruspandini sulla quale io ci provo gusto quando mi mandano certi messaggi venga a respirare la puzza di Ceccano che produce il suo depuratore di una cattiveria unica questo messaggio però è la sintesi del disagio che tanta gente a Ceccano sta vivendo allora chiariamo questa storia del depuratore c'è un disagio c'è un disagio vero e quindi su quel disagio bisogna bisogna intervenire io quello che posso dire adesso al di là delle strumentalizzazioni perché queste vicende non vanno mai strumentalizzate la politica deve stare al suo posto perché altrimenti non ci siamo perché è facile poi mandare messaggi fare queste cose invece bisogna stare sul pezzo e risolvere i problemi e io credo che è quello che sta facendo il consorzio e che ha fatto il consorzio in questi anni intanto si continua a dire il depuratore ASI e non si dice che la gestione non è più del consorzio ASI e questa è la prima questione quindi c'è un difetto diciamo da questo punto di vista come dire o non si vuole capire questa cosa oppure non lo so io è vero che non è dell'ASI è dell'AEA che è partecipata dall'ASI non è che la gestione ce l'ha Ruspandino ce l'ha Cato Bianco ce l'ha io ce l'ha una società nella quale lei partecipa no cominciamo a separare un conto alla gestione un conto alla proprietà sono due cose completamente diverse il consorzio ASI non mette becco e non entra sulla gestione perché la gestione è stata affidata ad una società che poi è una società in house è un altro discorso è sempre una società ma la puzza viene da lì o no perché se no non ne usciamo allora per quanto riguarda invece io non voglio sfuggire a questo problema per quanto riguarda invece l'impianto allora bisogna parlare con i fatti non con le chiacchiere Ruspandini lo sa perché abbiamo fatto qualche incontro anche al comune lo sa anche il sindaco di Ceccano in questi tre anni in questi tre anni io sono presidente del consorzio da tre anni tre anni e mezzo sai anzi adesso approfitto do anche un'anticipazione perché la regione proprio in questi giorni ha approvato la delibera sulla legge 60 ed ha approvato un nuovo finanziamento sempre sul depuratore di Ceccano di circa un milione e duecentomila euro su interventi di mitigazione ambientale e di tutela ambientale quindi di attenzione al tema dell'ambiente abbiamo fatto un investimento in questi quattro anni di quattro milioni di euro si ma la puzza fammi dire il depuratore o no ci vengo no però devo dire quello che è stato fatto di questi quattro milioni un milione di euro non sono nemmeno finanziamenti regionali o statali nazionali sono risorse del consorzio cioè noi per la mitigazione ambientale quindi anche sui controlli la vigilanza la videosorveglianza i scarichi abusivi abbiamo fatto un investimento di un milione di euro per quanto riguarda invece io qui continuo a dire sono stati fatti dei controlli sono stati fatti degli accertamenti e nessuno può dire al momento che la puzza viene dal depuratore anche perché bisogna allargare un attimino lo sguardo e bisogna come dire allargare anche gli orizzonti perché tante sono le situazioni e tante sono le situazioni che vanno vigilate e controllate da questo punto di vista quindi quella è la risposta più semplice io penso che un depuratore come dire il depuratore non serve per inquinare serve per tutelare l'ambiente cominciamo a dire queste cose perché altrimenti io non riesco il depuratore sta lì perché serve a tutelare il territorio e l'ambiente perché se non ci fosse il depuratore io non so dove vanno i nostri rifiuti fortunatamente c'è il depuratore quindi il depuratore il suo lavoro lo fa poi è un depuratore che ha bisogno perché quello è il tempo della cassa del mezzogiorno è stato costruito negli anni della cassa del mezzogiorno ha bisogno di interventi di ammodernamento sono stati fatti si stanno facendo interventi di mitigazione ambientale sono stati fatti si stanno facendo la cosa che io voglio dire andiamo a vedere anche le tante altre situazioni che ci sono ad esempio gli scarichi abusivi quelle bombe che arrivano al depuratore di chi sono? mi fermo quindi e ci introduce anche un altro argomento nel frattempo c'è un messaggio dell'onorevole Enrico Segneri del Movimento 5 Stelle che scrive il ministero a proposito dell'interessamento di Capobianco per l'area il ministero predisporrà il bando chi vuole risponderà a una manifestazione di interesse questo vale per Capobianco e vale per tutti gli altri che eventualmente fossero interessati Ruspandini sulla puzza del depuratore altra cosa sa che noi no ultima cosa lo sento altra cosa sa che noi ad esempio con interventi anche di forte innovazione tecnologica abbiamo collaborato anche con la forestale per affrontare e risolvere questi problemi ma queste cose non si scrivono e non si dicono lei ci dice sono due motivi uno è un depuratore degli anni 70 tecnologicamente superato ha fatto la sua parte non è superato diciamo è un depuratore come tutte le strutture diciamo realizzato ha bisogno di ed è quello che stiamo facendo di un aggiornamento con tutte le difficoltà che ci sono però si sta facendo però il vero problema lei dice sono delle bombe che arrivano di là da scarichi e mobili no io dico che ci sono tanti problemi ci sono tante situazioni non tocca a me adesso dire io non lo so da dove però le situazioni sono tante sono diverse e allora non si può dire è il depuratore no non è il depuratore perché nessuno può scrivere e può dire e questo lo sa bene anche Ruspandini che è il depuratore bisogna capire Presidente posso sentire Ruspandini allora voglio dire non mi devo lasciare impiedosire dalla bravura di Francesco De Angelis io riconosco sempre politicamente è in grado di rimanere a galla sempre secondo e nemmeno posso essere associato a a chi dice PD PDL eccetera eccetera visto che ho militato nel PDL il centro-sinistra ha gestito a tutti i livelli a livello regionale a livello provinciale tutta la fase della depurazione la fase dello sviluppo con le rigatute che sappiamo da un punto di vista ambientale occupazionale con i sindacati e credo che sia il vero protagonista della insieme alla democrazia cristiana diciamo così adesso il PD che ha sostituito questo connubio tra comunisti e democrazia cristiana appunto alcuni reduci della DC con la Margherita un po' tutta questa fase in questa provincia diciamoci la verità per cui se da una parte si sono prese le cose positive che avete avuto a livello di incarichi con tanti amministratori la maggior parte degli amministratori di questo territorio ha avuto sempre una destra del PD dall'altra c'è anche una considerazione che ci dovete lasciar fare che io ritengo diciamo così negativa molto negativa nella fase della concessione delle autorizzazioni ambientali nella fase della gestione dell'inquinamento molte chiacchiere da parte di Zingaretti io ritengo che noi abbiamo una incidenza tumorale tra le più alte d'Europa i nostri fiumi le nostre criticità le nostre valli le nostre zone vittima di una serie di psicosi collettive tra cui quella di Ceccano sulla Puzza dove noi abbiamo cercato di avere un atteggiamento costruttivo perché capiamo quanto è complesso mettere insieme l'arpa che deve controllare i pochi mezzi che hanno i comuni per fare effettuare i controlli e questo mostro che è il devuratore che la politica consociativa degli anni 60 ha regalato al territorio di Ceccano è stato un territorio dove il PD il PC prendevano vette altissime a livello nazionale quasi ecco questo regalo che è stato fatto dalla sinistra ceccanese dal centro sinistra ceccanese provinciale sul nostro territorio oggi ha portato quasi ad abbandonare le zone che ricadono attorno al tra cui casa mia quindi una cosa che conosco molto bene addirittura c'è nella società in house partecipata dell'asi che gestisce il depuratore diciamo in una in questo studio si dice che gli odori nauseabondi non possono andare oltre i 750 metri del circondario quando arrivano ben oltre secondo quello che noi percepiamo quindi il giudizio che noi diamo è un giudizio estremamente negativo su tutta la fase complessiva della ricaduta occupazionale a livello di inquinamento a livello di sviluppo che c'è stato in questi anni anche l'asi che fa parte del nostro diciamo così il comuno ceccano è socio anche dell'asi in tutti questi anni noi non ci sentiamo di dare un giudizio positivo anche precedente alla tua nomina per cui per me è facile oggi fare degli assist di demagogia pura alla quale vorrei un attimo mettermi da parte perché assistere alle mamme ogni giorno che prendono i bambini dalla scuola l'altro giorno sono stato protagonista di un atto pazzesco ho preso mia figlia di 4 anni l'ho portata lì dentro per dimostrare che anche mia figlia sente la puzza quindi siamo situazioni di disagio estremo chiariamo una cosa la puzza è una cosa scomoda ma non avvelena così cerchiamo di mettere in chiaro questa cosa la puzza è scomoda dà fastidio ma non è non significa che è qualcosa di veleno ma poi diventano vittime gli amministratori però è un problema su questo sono d'accordo e quindi è un problema che va risolto per me l'ambiente viene al primo posto tutti i problemi della valle del sacco che conosciamo quindi ci sta tutto volevo chiarire su quella questione che diceva Massimo di quello studio che ho visto anche io la chiarisco i 750 metri che cosa dicono? che qualora venisse dal depuratore diciamo tra virgolette non può andare oltre i 750 metri secondo loro secondo questo studio secondo questo studio ecco no per spiegarlo siccome la puzza arriva fino alla scuola che non sta a 750 metri ma sta quindi a 2-3-4 chilometri allora come dire c'è un punto da capire e da approfondire perché se venisse dal depuratore oltre i 750 come dire non può andare in alcuni quello è lo studio che hanno fatto l'AIA è lo studio che ha fatto l'AIA ci mancherebbe non sto dando colpe assolutamente io dico certo certo ma io ho chiarito diciamo che è tutto il processo di controllo che probabilmente il cittadino normale dice non solo l'AIA è di parte rispetto all'Asi e lì siamo sicuri Massimo addirittura dà le colpe anche a chi deve controllare Massimo domanda quante situazioni ci sono oltre il depuratore non diciamo ma un paio che possono ma ci sono però una forse una non lo so una o due ma come dire però ripeto noi l'abbiamo affrontata questa cosa fare sciacallaggio non bisogna sono d'accordo ripeto a parte inversa qualcun altro forse l'avrebbe fatto non De Angelis ma ripeto oggi quelli che votano De Angelis ci attaccano a noi che De Angelis non dico che è il colpevole ma è quello che ne dovrebbe sapere è pagato per controllare più di noi su questi temi ci attaccano a Ceccano ma al netto di questo non voglio discutere su questo io dico che noi dobbiamo se è possibile svestirci tutto svestirci tutti di alcune cose che ci hanno fatto mangiare a cominciare dall'Europa passando per tutti 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 gli studi che dobbiamo leggere dobbiamo metabolizzare sull'inquinamento sull'impatto ambientale io ritengo che purtroppo le persone subiscono questi processi in maniera probabilmente molto più grande rispetto a quello che i dati ci dicono abbiamo siamo già d'accordo con il direttore Porcu di andare avanti rispetto ad una problematica che io sto portando avanti al ministero con il ministero della sanità perché riteniamo che il registro tumorale così come è fatto non possa darci un quadro diciamo così il più possibile veritiero sono molto preoccupato per le parole che sento dire sulla diciamo così su questa bonifica della valle del sacco che è rimasto il sogno dei sogni sul quale si sciacquano la bocca politici da anni ormai da anni noi pensate che come comune abbiamo fatto da soli un progetto di fidodepurazione attingendo dai tecnici da professionisti locali per dimostrare non solo la cittadinanza ma a noi stessi che si può probabilmente si fa prima a fare da soli che aspettare questi finanziamenti e mi voglio ricollegare a quest'altra grande diciamo così quest'altro grande sogno dell'Europa unita della grande Europa no so io De Angelis rimprovera al PD le sue dinamiche interne che possono essere anche sicuramente interessanti per un grande partito come il PD io rimprovera al PD soprattutto di aver costruito avendo i mezzi di informazione giornali televisioni insieme ad altri partiti questa cappa incredibile questo mostro secondo il quale tutto quello che ci viene detto da Bruxelles è legge gli italiani sono più poveri si sentono tutti più poveri con l'euro in tasca non lo dico io ma basta dirlo basta chiederlo a qualsiasi cittadino i vincoli che ci vengono imposti da gente come Juncker che è ubriaco una sera sì e un'altra pure oggi oggi in una conferenza stampa Sberleff lancia sbagli italiani in maniera vergognosa i governi che si sono susseguiti prima di questo e questo quindi voglio dare atto a questo governo almeno per il coraggio hanno pedessiguamente risposto a tutti i diktat della Troica sono stati governi che hanno subito Bruxelles e spesso sono stati addirittura scelti da Bruxelles che non hanno fatto niente cioè nel senso cosa vi fa ritenere che domani quando questo documento di finanza non verrà accettato quindi fra tre settimane non subiremo delle conseguenze ma assolutamente subiremo delle conseguenze io credo che però questo è l'importante che i cittadini lo sappiano assolutamente però le conseguenze non sono quelle che ci vengono diciamo così quali saranno le conseguenze? allora innanzitutto innanzitutto diciamo che tra tre mesi gli attuali responsabili della burocrazia europea verranno sostituiti perché stando a tutti i sondaggi populisti chiamiamoli così sovranisti io sono un sovranista non sono un populista ma avranno in tutte in tutte le nazioni europee in Germania i suoi colleghi hanno detto che col cavolo che la fanno passare la manovra italiana quelli che se dovessero vincere loro le elezioni cioè i fratelli di Germania dicono che non se ne parla proprio di una manovra fatta sulle spalle della Germania gli austriaci che sono sovranisti hanno detto che non se ne parla proprio si accorgeranno anche loro che i tedeschi sono tedeschi la stessa cosa l'Orban la stessa cosa l'Orban per quanto riguarda l'immigrazione noi siamo consapevoli di tutto io dico che i nostri voti dopo non pensate di trovare degli appoggi se vince la destra in questi altri paesi sono sovranisti per loro non solidali per solitaria lei sa bene lei sa bene è stato il primo a parlare di Bannon in questa provincia tra i primi in Italia il movimento sovranista è una cosa seria non è una barzelletta il movimento sovranista ha come stella porare quella di ridiscutere questa Europa per cui i problemi che abbiamo noi li hanno in tutte le nazioni d'Europa tradite tradite da un sogno che alla fine del quale alla fine si è appropriata l'alta finanza questi che danno voti alla nostra manovra sono persone non elette da nessuno questo sistema di cose caro direttore porterà a conseguenze ancora più negative perché le conseguenze non sono solo soltanto nella ricaduta occupazionale nella crisi economico finanziaria o monetaria come sarebbe meglio chiamarla ma anche nelle libertà se si continua in questo modo questo è il preludio per una serie di piccole grandi rivoluzioni alle quali secondo me è meglio non arrivare io dico in Italia in genere la rivoluzione non si fa però se si continua con l'immigrazione selvaggia se si continua con il tentativo di questo spread diciamo così che è una moderna prova di forza da parte di chi dovrebbe in qualche modo invece essere molto più cauto se si continua a mettere al centro della vita della gente i mercati tra virgolette io credo che non andremo a finire bene per cui dico questo tutti coloro che continuano a pensare che l'Unione Europea faccia bene all'Italia perché 50 anni fa qualcuno ha avuto questa intuizione che è l'uovo di Colombo poi io credo che se ancora non ha capito che non è la strada giusta penso che elettoralmente se ne dovrebbero accorgere ma penso se ne accorgerà tra un po' poi non voglio dire che la soluzione ce l'ha in tasca di Maio non dico assolutamente questo dico che assolutamente vanno rivisti questi trattati che non sono soltanto che non vanno nella direzione soltanto di di dire deficit pill di fare un mero calcolo numerico ma soltanto questo e cioè vogliamo mantenere uno standard di vita dignitoso per i suoi figli per i nostri figli per la nostra gente allora iniziamo a dire che i tazzi li dobbiamo mettere noi con i prodotti della Cina no come ha fatto Romano Prodi che l'ha fatto entrare nel VTO dobbiamo avere noi un rapporto con la Russia non mettere i tazzi perché l'Italia con l'Iran e con la Russia è il primo paese produttore e ha un un interscambio o come si dice import-export di primissimo livello dobbiamo continuare ad avere al centro della nostra azione politica l'interesse nazionale come si fa ad avere l'interesse nazionale con gente che con la nazione non vuole avere niente a che fare al PD dell'Italia gli interessa il giusto hanno una posizione il PD è con voi all'opposizione ma su altri fronti al PD della patria ne parla da 30 anni della patria al PD questi sono internazionalisti giustamente però sono un'opposizione adesso ma noi siamo a posizione di destra loro saranno un'opposizione massimo sto registro sto registro sto registro sto registro se non mi faccio il fiorito di una situazione volevo sentire mi fa sentire capobianco una battuta di un secondo un consiglio a Massimo corrispondini adesso la rendita tra un po' finisce ma io tu lo sai non è che potete stare 50 a dire il PD il PD tu sai che ho attaccato i mani quando quelli che il partito stavano no lo sai tra un po' dal punto di vista imprenditoriale c'era molto probabilmente un suo collega imprenditore dice oggi una piccola impresa con quattro dipendenti intanto gli altri messaggi mandiamoli a scorrere con quattro dipendenti arriva a pagare tra tasse cassedile busta paga anche 12.500 euro mensili De Angelis però diceva è vero che si paga tanto ma il valore aggiunto dato dalla capacità lavorativa e di adattamento del lavoratore italiano non ha prezzo è vero che il costo del lavoro è troppo alto in Italia questo è un dato certo cioè è una lotta che non la scopro io è una lotta continua che ogni piccolo o grande imprenditore fa ogni giorno quindi questa il reddito di cittadinanza secondo lei può produrre della ricchezza oppure era meglio come diceva Giorgia Meloni forse dargli a voi imprenditori i soldi per abbassare quel cuneo fiscale cioè il costo del lavoro quindi le rispondo veramente come imprenditore cioè rispondere sul io credo che l'aiuto alla piccola media azienda porterà sicuramente a beneficio dell'occupazione e quindi se c'è occupazione c'è pure un concetto di benessere dare dei fondi per aiutare se effettivamente questi fondi andassero a aiutare persone veramente bisognose ben vengono ma il problema è se veramente vanno le persone bisognose altro messaggio diceva manca un piano industriale vero per lo sviluppo del nostro territorio diamo incentivi alla piccola impresa secondo lei può essere uno stimolo sì uno stimolo però la piccola azienda deve pure cambiare cioè si deve pure innovare il discorso dell'azienda oggi secondo me è fondamentale sul fatto dell'innovazione l'azienda deve avere idee se non ha progetti idee non può vivere l'onorevole segneri in un messaggio che ha mandato prima del movimento 5 stelle ha detto il ministero predisporrà il bando chi vuole risponderà con una manifestazione di interesse e questo vale per tutti quindi non solo per Capobianco ma noi ce l'abbiamo fatto ma lei non aveva una carta noi abbiamo già fatto questo questo quindi faranno un altro bando l'onorevole credo che non sia informata su di noi perché se risponde in questo modo non ha cioè noi ne abbiamo fatto due o tre di offerte quindi se siamo qui quindi praticamente non è che crediamo più a fare le offerte quindi credo che le garanzie le devono dare loro perché noi facciamo un mestiere e lo facciamo per farlo quindi non siamo lì a ricambiarlo lei che garanzie chiede a questo punto allo Stato italiano perché le dicevo le mie garanzie finanziarie ve le ho portate il mio progetto ve l'ho portato addirittura mi avete fatto stare un mese dentro allo stabilimento per fare per cominciare a fare i rilievi alla fine poi non si è fatto più nulla non si capisce perché Stato italiano che cosa deve dare alle imprese affinché ritengano interessanti continuare a investire come nel caso di Patrica anzitutto deve a non farle scappare se deve occupare per non farle scappare via perché questo è un caso che noi siamo andati ad altre parti insomma noi non è che non viviamo noi facciamo imprese pure oggi insomma quindi il discorso che devono fare loro devono essere credibili ci potrebbero anche convocare con due dati alla mano precisa e potremmo progettare insieme perché poi l'obiettivo c'è ragione De Angelis quell'imprenditore del via ha progettato possiamo con voi da quello che ho capito cioè c'è un interesse che va fatto insieme non è un interesse dell'imprenditore perché noi prendiamo l'ILBA diventiamo straricchi no noi prendiamo l'ILBA perché dobbiamo lavorare come hanno fatto con Benetton in pratica ci hanno regalato l'autostrade cioè se devi fare una cosa fatta bene perché regalare l'autostrade come hanno fatto i governi precedenti a Benetton del centro-sinistra questo è un punto di vista della nostra parte politica da scienziati secondo me direttore mi consenta un attimo volevo dire io rispondo così perché poi questa è la grande industria italiana il Benetton sentiamo un attimo Capobianco hanno valutato che danno hanno fatto negli ultimi due tre anni non certo il governo attuale perché non c'è però se andiamo a valutare i danni c'era una macchina che comunque era ancora poteva andare in produzione oggi questa macchina è da buttare via perché oramai la ruggine non è più buona oramai è da buttare quindi è rimasto in piede sia il capannone cioè questi sono danni i macchinari di ILVA si sono usati oramai sono tutti busoletti che non servono più a niente questo glielo parlo tecnicamente oramai lì non recupera più niente probabilmente recupera lo stabile al limite per cui eventualmente lei dice se la risposta è c'è il bando se Capobianco è interessato risponda al bando questo vale per lui vale per tutti lei dice a me oramai me la sono andata in Romania è la risposta più semplice che mi dispiace che mi ha fatto questa risposta così semplice poteva fare una più completa onestamente mi ha aspettato una risposta che se voglio dare un numero mi convocava e io gli spiegavo tutti nei dettagli se non ha capito quello che ho detto lo spiegavo nei dettagli per vedere effettivamente quello che vogliamo fare e se ci aiutano probabilmente lo faremo Gaeta il 26-27 ottobre sarà per la 25esima volta la capitale del respiro delle giornate di pneumologia e allergologia ma soprattutto della Santa Alleanza promossa da alcuni medici ospedalieri con quelli di famiglia nel tentativo di deconcessionare il pronto soccorso del territorio se ne occuperà il terzo numero di Vista sul Golfo la rubrica di Saverio Forte dedicata al Sud Pontino grazie ai nostri ospiti grazie a voi a casa Porte Aperte torna tra una settimana ma attenzione non torniamo giovedì prossimo torniamo mercoledì perché seguiremo in diretta le elezioni per il nuovo presidente della provincia di Frosinone in diretta dal Palazzo della Provincia vi racconteremo lo spoglio scheda per scheda minuto per minuto arrivederci ciao ciao Grazie per la visione!